Buonasera e bentrovati su Nerd Pills! La verità sull'allenamento che non volevi sapere, ma che hai bisogno di sapere ogni tanto. È settembre quindi molti cominceranno ad allenarsi adesso, a rimettersi in forma. Ma qual è il più grande problema in questo caso? Il problema è che spesso si sceglie un'attività che non piace. Se non ti piace muovere pesi, non farlo. Esistono innumerevoli vie che ti possono portare all'obiettivo. Il mio consiglio personale è scegline una che ti piace, scegli un'attività in cui ti diverti. Beh, è la filosofia nerd. Se qualcosa non ti piace, non la fai volentieri. Se non la fai volentieri, non la fai continuativa nel tempo. Se non fai un'attività riguardante l'allenamento continuativa nel tempo, i risultati non arriveranno, anche perché i risultati arrivano proprio se l'attività è continua. E perché no? Già che ci sei potresti anche provare un'attività marziale?